Buonasera da Giacomo Caporusso, gli amici di Barletta Live. Oggi siamo in compagnia di un'inaugurazione di una bella iniziativa. Complimenti veramente al titolare che abbiamo qui insieme a noi. Grazie. E' una presentazione di un evento che tanto ci ricorda Milano. Beh, questo è un evento che noi ci teniamo a farlo su questa zona qui. È una concessionaria importante, ci teniamo per questo territorio. Siamo presenti già sulla zona di Bodugno. Due anni fa abbiamo aperto un'altra sede su Altamura. Per cui cerchiamo sempre di seguire tutti i clienti nella zona. Per cui adesso Barletta per noi è piuttosto importante. Naturalmente Barletta avrà l'onore di freggiarsi per la prima volta di questa nuova macchina. Sicuramente ci sarà la fila. Non è un caso che stiamo presentando insieme all'inaugurazione di questa struttura nuova, di questa concessionaria. Anche un modello nuovo, completamente nuovo. Siamo sulla quarta edizione di uno Sportage. Una vettura tecnicamente innovativa. Anche con delle linee completamente diverse dalle vetture attuali, dei subattuali. Perciò ci crediamo ancora in questo prodotto dove abbiamo già visto il feedback dei clienti che è molto accattivante, molto importante. Naturalmente anche i lettori di Barletta Live ringraziano per questa splendida giornata. Naturalmente l'appuntamento è di rivederci qua sempre per scoprire le novità automobili che offre la Chiam. Grazie, grazie tanto. Da qui è una 2185 cavalli GT Line.